Alla fine della scorsa estate l'aeroporto internazionale Capodichino di Napoli è stato inserito insieme agli aeroporti di Bruxelles, Praga, Budapest e Fukuoka nella top 5 dei aeroporti a Roots Wars Awards, il massimo riconoscimento a livello mondiale a sostegno della connettività aerea espresso dai voti dei top manager delle compagnie aeree. Gli ultimi aggiornamenti dell'estate ancora in corso parlano di circa 300 voli giornalieri con una stima di 7 viaggiatori stranieri su 10, incremento le stelle per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti. Il mese di giugno, stando al report fornito dalla GESAC ente che gestisce l'aeroporto partenopeo, si lascia dietro dati incredibili. A Capodichino sono transitati 1.353.000 passeggeri, dato che corrisponde addirittura a un più 3,8% di presenze rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Fa riflettere anche un altro dato, il 70% dei voli su Capodichino sono di natura internazionale, questo sia in entrata che in uscita. A Napoli i collegamenti nazionali sono 17, 116 invece quelli attualmente oltre confine. Come detto va avanti in modo costante la crescita dei flussi di passeggeri provenienti dal mercato nordamericano. Ora sono quattro i voli quotidiani, due su New York-Newark di United, uno per New York-GFK di Delta e uno per Philadelphia di American Airlines. Per luglio GESAC ha calcolato su Napoli il passaggio di 1.475.000 viaggiatori. Nel mese di agosto, appena cominciato, il principale scalo del sud Italia si prepara a circa 1.500.000 transiti.